Silvia Spinaci, siamo all'indomani di una riforma costituzionale che ha rivisto profondamente il ruolo delle autonomie locali. Come è cambiata? Cosa cambierà per le autonomie locali? Per le autonomie locali cambiano molti aspetti. Sicuramente la riforma costituzionale in parte conferma un percorso già avviato dalla legge del Rio. Le province non sono più enti costitutivi della Repubblica, si parla nella riforma costituzionale di nuovi enti di area vasta che dal punto di vista ordinamentale sicuramente saranno uniformi ma rispetto ai quali le regioni possono avere un ruolo importante nel disciplinare le funzioni. Questo significa quindi che abbiamo di fronte un percorso nel quale sarà necessario un intervento organico che ridisegni una disciplina legislativa sistematica e organica in materia di enti locali. Dobbiamo evitare in questo momento di fare l'errore che abbiamo fatto nel 2001, ossia di non far seguire alla riforma costituzionale una nuova disciplina organica in materia di autonomie locali.